Ancora Civitanova, Vibo si arrende per la terza volta alla superiorità della capolista, questa volta una sconfitta meno amara e maturata in 4 set, al termine di una partita giocata ad alti ritmi da parte dei giallorossi, arrivati nelle marche con una formazione insolita schierata da coach Cantor a causa dell'assenza di Cadu, sostituito da Thiago Alves non al top. La differenza si nota già nel primo parziale, quando i padroni di casa si portano avanti, Vibo prova a tenere testa ma crolla sul finale. La storia si ripete nel set successivo, dopo un breve botta risposta è sempre Civitanova a condurre, chiudendo 25 a 18. La reazione dei giallorossi arriva solo nel terzo set, il muro di Diamantini riapre le speranze. Entusiasmo smorsato però nell'ultimo set, i marchigiani si impongono chiudendo set e partita. In A2 femminile sorride solo Soverato che al palascoppa contro Chieri trova i primi punti del 2017 al tie-break, due punti importanti per la squadra di coach Saia che sale così al sesto posto. Vittoria che ha le Ioni che mancava da tre partite. Pesante sconfitta è invece quella di Palmi maturata in casa di Pesaro. Un sonoro 3-0 rispedisce in Calabria le regine. Per la squadra di Giangrossi ora è tutto da rifare. Maria Chiara sigillò per la C News 24.